Allora, signor Lions, prima ne facciamo una bella fotografia di fronte e poi faremo quelle di profilo. È pronto? Siamo qui perché dovevi a quello stozzino 3000 dollari? La faccia verso di me! Avevo la sicurezza che i kicks avrebbero battuto il Boston e ci è mancato proprio un pelo che vincessimo! Vuol dire al suo amico di darmi la faccia, prego? Dalle la faccia! Perché sei andato dal bookmaker? A che ti serviva? Credito! Faccia a me, prego! Era il solo che mi facesse credito e guarda avanti! Gli vuol dire di star fermo, per favore? Cosa? Sta fermo! Che cosa fa? Non ci vede, sta fermo! Che non guardi lei, che guardi me! Cosa? Guarda la macchina! Perfetto, gli dica di non muoversi! Cosa? Non muoverti! Questa m'ha già stufato! Ma che me lo fa per dispetto? Io voglio solo che guardi la macchina! Perché non sta guardando la macchina? No! Strano, io avrei detto di sì! Cosa? Guarda la macchina! Va meglio! Fermo! Ma perché non si decide? Cazzo! Cazzo! Cazzo, 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 cazzo! Sta dicendo cazzo o cozza? Cazzo! Cazzo, 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 cazzo! Cazzo!